Sorteggiato ieri sera alla commissione mandamentale di Sant'Agata Militello, l'ordine delle liste che saranno sulla scheda elettorale in occasione delle amministrative di Capodorlando. Il primo candidato a sindaco posizionato sulla scheda sarà Franco Ingrillì e le liste nell'ordine sono la lista orlandina, Orizzonte Orlandino, Insieme per Cambiare, Città Futura e Partiamo da Capo. Quindi Salvatore Librizi con nell'ordine le liste Paladini d'Orlando, Capodorlando Migliore, Muovi Capodorlando e Valore Pubblico. Intanto proseguono le iniziative della campagna elettorale. Salvatore Librizi ha presentato il suo programma partecipato, redatto con i risultati del Turi nelle Contrade e con gli incontri settimanali. Lo spirito sarà sempre quello della partecipazione e del confronto. Un occhio particolare sarà dato anche alle iniziative che hanno a che fare con gli interventi strutturali. Credo che il depuratore sia la priorità assoluta e sicuramente accanto al depuratore il cavolo di battaglia sarà questo anfiteatro leggero che vogliamo fare ai piedi del mondo e che abbiamo già con un rendering fatto vedere ai cittadini. Poi altre proposte che verranno fuori da questo incontro con una spiegazione fin troppo analitica, specialmente per gli interventi delle Contrade. Per quanto riguarda la coalizione a sostegno di Frank Ingrillì, questa sera al circoletto verrà presentata la lista orlandina, mentre domenica alle 19.30 in Piazza Matteotti presentazione pubblica per tutti gli 80 candidati in corsa nelle cinque liste.